e benvenuti ragazzi Stefano Montana qui per voi oggi con un nuovo caso studio che veramente vi farà capire come è possibile dal nulla creare un brand milionario di uno milano ma prima di addentrarci e di analizzare tutte le sue tattiche tutte le sue strategie e soprattutto come è riuscito a ottenere questo risultato da milioni di euro all'anno vi chiedo semplicemente di iscrivervi al canale proprio in questo momento e di attivare la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati in modo da ricevere le notifiche direttamente quando andrò a caricare un nuovo video utilissimo per voi quindi ragazzi iscrivetevi e partiamo subito con D1 Milano veramente questo brand fatto le cose veramente fatte bene come già detto milioni milioni di euro di fatturato all'anno vendendo orologi rileggendo attentamente il nome capiamo subito che D1 Milano va a richiamare il made in Italy quindi l'italianità del brand quindi la qualità e tutto quanto loro ovviamente cercano appunto di dare questo made in Italy al loro brand ok questo senso di made in Italy vediamo subito come il sito è fatto veramente bene ok con il nuovo prodotto messo in evidenza ovviamente costa di più vedete che ha una posizione diversa rispetto agli altri orologi che costano la metà vedete bene ovviamente come il sito è fatto in maniera super professionale Shopify ovviamente si vede subito che Shopify con le foto di Instagram fatte praticamente perfette ok vediamo qui Instagram spettacolare hanno probabilmente anche qua Instashop con i prodotti non taggati strano ok di solito metto un altro caso studio che ho appena fatto qui a sinistra dove quest'altro store Meller Brand utilizza l'applicazione Instashop di Shopify per appunto taggare i propri prodotti su Instagram ok che secondo me è fondamentale in quanto i clienti possono attraverso il prodotto tag di Instagram andare direttamente alla pagina prodotto e acquistare direttamente quindi facilita molto di più il processo ok comunque l'altro caso studio ve lo metto qua o lo trovate nel mio canale ok detto questo andiamo a vedere appunto Instagram abbiamo visto Facebook hanno addirittura Pinterest che in America va un sacco ok vedete qui Pinterest Instagram ovviamente 119.000 ok vedete qua foto spettacolari veramente veramente fatte bene ovviamente fanno milioni non a caso vedete qua il pacco che gli arriva con ovviamente con il loro orologio vi fa capire comunque che il pacco arriva con una confezione veramente di lusso ok vediamo qua Italian Design Japanese Movement ok quindi fa capire che ok il design è italiano però il movimento è giapponese anche se probabilmente adesso ve lo mostrerò sono comunque articoli cinesi made in China sicuramente ok abbiamo visto qua le foto va bene le foto abbiamo viste Facebook vedete qua i prodotti tutti in evidenza quando uno arriva alla pagina vedete subito i prodotti ovviamente in inglese con tutto il chatbot ok vediamo qua like 192.000 va bene Pinterest come detto fondamentale se vendete in US vedete qua un sacco di visualizzazioni solo da Instagram scusate da Pinterest vedete qua tutte le foto ok quindi abbiamo visto Pinterest Instagram e Facebook perché dico che il prodotto è probabilmente made in China prima di tutto perché ho letto già il il appunto questo articolo di questo ragazzo Dario Spallone che insieme ad altri tre co-founders hanno creato questo brand di Milano quindi italiano quindi loro sono italiani che hanno creato questo brand tra virgolette appunto made in Italy anche se made in Italy non è solamente con Italian Design ovviamente loro sono di Milano hanno dato il nome di uno Milano ok vediamo qua dove avevo letto che il prodotto ovviamente vedete qua come creano appunto questa sensazione di lusso nel prodotto che cosa che dovete fare anche voi in modo da ovviamente aumentare i prezzi e aumentare ovviamente di conseguenza i margini di guadagno di profitto ok dove avevo letto che erano prodotti in Cina ok la rinascente Panama in Panama Swellby perché a Panama c'è solo un sacco in Panama Dubai Qatar un sacco di ricchi che non pagano le tasse ok questo è l'articolo che volevo appunto mettere in evidenza the brand in full is called D1 Milano does that mean you produce your watches in Italy quindi gli chiedono appunto se loro producono questo brand in Italia ovviamente loro rispondono dicendo la verità che il prodotto viene dalla Cina ok quindi viene il prodotto in Cina infatti loro scrivono Italian Design, Japanese Movement perché il prodotto è ovviamente disegnato in Italia come per esempio l'iPhone ormai ragazzi le cinesate non esistono più in Cina vengono prodotti articoli di qualità veramente elevata quindi dipende da voi come selezionate il vostro supplier, il vostro fornitore come in questo caso D1 Milano fa veramente bene quindi loro vendono prodotti di alta qualità ovviamente li vendono a un prezzo molto più elevato per ricavare più profitto come tutti i business del mondo e quindi loro fanno le cose veramente fatte bene qui anche specificano che non siamo obbligati a produrli in Svizzera prima di tutto perché ovviamente gli converrebbe molto di meno in termini di profitto andrebbe a abbrassare, a tagliare proprio drasticamente le loro immagini di profitto perché costa penso 3, 4, 5 volte di più produrli in Svizzera ovviamente che è la padre degli orologi ma focalizzandosi di più appunto sull'estetica vedete qui appunto del brand ok quindi loro danno un senso di qualità oltre che qualità del prodotto qualità complessiva, qualità percepita che è fondamentale per quanto riguarda e-commerce soprattutto quando vendete online ok loro devono quando i clienti entrano in vostro sito devono proprio sentirsi in un ambiente di lusso ok come in questo caso fa benissimo di Uno Milano quindi complimenti a questi ragazzi italiani e come vediamo nella fine dell'articolo qui loro utilizzano anche suppliers italiani che fanno il design comunque il pacchetto tutto bello che gli arriva ai clienti viene prodotto in Italia appunto per appunto come vedete qua occhio al dettaglio fondamentale ragazzi tornando al sito web notiamo subito come il sito web ovviamente come ho detto in precedenza è fatto decisamente bene vedete qua fanno addirittura l'upsell del cinturino 110 euro 150 quindi non decisamente non economico ovviamente vanno a tagghezzare una appunto quella nicchia di persone comunque che adorano che hanno i soldi già da spendere in ovviamente in prodotti di lusso quindi diciamo che appunto targhezzano quella nicchia abbastanza di lusso anche se ovviamente ci sono marchi come Rolex considerati ancora di più di lusso che ovviamente sono su un range ancora più elevato comunque anzi quello che vorrei sottolineare come ovviamente due anni di garanzia veramente ottima ma 215 euro per esempio è un prezzo che più o meno chiunque si può permettere ok anche se ovviamente dipende ma comunque capite bene che loro cercano appunto di dare questo senso di luxuri a chiunque ok quindi anche magari una persona che guadagna 1000-2000 euro al mese può permettersi un'erogio del genere sentirsi comunque appunto un senso di lusso un senso di appartenenza a questa categoria senza necessariamente spendere migliaia di euro quindi questo è un problema tra virgolette che loro vanno a risolvere quindi dare appunto questo senso di di lusso anche a persone tra virgolette normali che appartengono quindi a uno stato sociale diverso andiamo ad analizzare invece i dati che a noi ci interessano e come soprattutto loro fanno marketing quindi anno di fondazione 2013 ok dei 10-50 dipendenti non so perché in questo caso non funziona SimilarWeb ma comunque è uno dei siti che utilizzo per spiare i miei competitors e altri siti web vi metto il video completo di come spiare ok tutte le tecniche che utilizzo che dovete utilizzare anche voi per spiare qualsiasi sito web e qualsiasi competitors qui in alta sinistra comunque lo trovate nel mio canale vediamo qui comunque che le fonti di traffico principalmente sono dal search quindi dalla ricerca diretta ok ok instagram e dal social ovviamente che sicuramente loro fanno una marea di facebook ads ok 53% queste sono ricerche ok google ads social ovviamente facebook 65% instagram un po' di meno però ovviamente sicuramente fanno anche instagram ads ma che probabilmente utilizzano anche per retargeting quindi abbiamo detto facebook ads andiamo a vedere a spiare i loro facebook ads vedete qua 4000 risultati direi decisamente tanti quindi lo spendono una marea in facebook ads ovviamente investimento ragazzi ricordatevelo sempre investimento in quanto in quanto loro sicuramente ci guadagneranno un casino abbiamo detto fanno milioni di euro di fatturato all'anno vedete qua diverse tipologie di ads principalmente semplici in questo caso devo dire sì praticamente addirittura questo vabbè questo non c'è tra niente il panzerotto panzerotto di uno milano ok principalmente la stessa tipologia di ads qua ci propongo anche altri ads comunque questo mi pare di capire che è il loro ad principale semplice così semplice ma che grazie al facebook pixel riusciranno sicuramente a trovare i loro clienti ideali soprattutto perché targetizzano in inglese quindi in tutto il mondo vediamo che hanno il sito in diverse currency il loro sito shopify fatto veramente bene in inglese in italiano ovviamente targetizzano probabilmente tutto il mondo quindi diciamo che facebook pixel andrà a riconoscere automaticamente i clienti migliori quindi più dati avrà il vostro facebook pixel e più ovviamente sarà capace di riconoscere i clienti migliori che andranno acquistare direttamente sul vostro sito web ora come voi potete ottenere lo stesso risultato spero per voi di milioni di euro di fattura dall'anno come hanno fatto loro vi voglio portare questo esempio appunto come su Alibaba potete addirittura trovare fornitori che prendono spunto da brand famosi a livello mondiale quindi come per esempio Audemars Piguet che in questo caso ovviamente Audemars Piguet è uno dei brand più famosi al mondo ogni orologio costa come per esempio 100.000 50.000 dollari l'orologio da 1875 quindi non sono nati ieri ovviamente brand svizzero di fama mondiale e come questi fornitori cinesi appunto scrivendo il nome del brand riescano a tra virgolette prendere spunto da appunto questi brand questi brand famosi e voi potete per esempio ordinare questo qui per 38 42 dollari a pezzo quindi 40 dollari a pezzo più o meno metterci il vostro logo sopra e creare un brand di lusso ovviamente con la confezione tutto bello col sito fatto veramente in maniera eccezionale e ovviamente vendete vendete questo vostro prodotto a un prezzo molto superiore rispetto ai 40 dollari pagati quindi se per esempio in totale un orologio vi costa 50 lo vendete tranquillamente a 150 e già avete fatto un 100 euro di profitto per ogni prodotto più ovviamente il costo di acquisizione tramite sponsorizzate che sarà intorno per esempio ne so 50 euro faccio un esempio così a caso quindi 50 euro prodotto 50 euro costo per acquisto e voi già vi mette in tasca 50 euro per ogni vendita quindi fate 10 vendite di orologio al giorno e già sono 500 euro al giorno netti di profitto prima di iniziare qualsiasi brand qualsiasi logo qualsiasi shopify store assicuratevi di fare le cose bene che ci sono una miriade di cose da imparare tutti i giorni facebook ads sono in continua evoluzione quindi dovete rimanere sempre aggiornati instagram ads stories nuove fonti di traffico come google ads youtube ads pinterest ragazzi ci sono una miriade di cose da fare quindi come ti ho appena dimostrato la possibilità di avere successo esiste è concreta e dipende solo da te la prima cosa che non dovete fare è mollare perché il fallimento è proprio la base di qualsiasi business di qualsiasi storia di successo proprio la prima cosa anzi che dovete fare è fallire rialzarvi e andare avanti capire quello che non è andato bene che è andato storto che avete sbagliato e fix ok aggiustarlo immediatamente correggendo i vostri errori andando avanti e facendo le cose fatte bene quindi assicuratevi di avere un mentore che vi segua e vi faccia capire dove avete sbagliato in modo da risparmiare un sacco di soldi un sacco di tempo e che vi aiuti ovviamente a ottenere risultati che volete ad arrivare al punto che desiderate e se ovviamente volete essere aiutati e vi piace essere aiutati io sono qui per questo quindi qualsiasi domanda me la fate sotto giù nella sezione commenti andrò a rispondere personalmente a qualsiasi vostro dubbio a qualsiasi vostra incertezza e vi consiglio fortemente di guardare il prossimo video che vi metto qui alla mia sinistra perché l'ho scelto appositamente per voi e sono sicuro che vi sarà utile quindi basta che cliccate qui alla mia sinistra e vi godete il prossimo video quindi un grande saluto un abbraccio e ci vediamo al prossimo video un abbraccio